di stare vicino ai cittadini, di ascoltare i cittadini della città di Avezzano, della Marsica e soprattutto poi ascoltare i cittadini italiani. E' su queste basi che abbiamo cominciato a tessere una serie di incontri, una serie di incontri che ha visto e ci ha visto protagonisti in tutto il territorio della regione Abruzzo. Abbiamo aggregato parecchie liste civiche, ci siamo sentiti, abbiamo costituito civiche d'Abruzzo, abbiamo avuto una persona che ci ha seguito, che ha dato subito attenzione al nostro progetto, al progetto che prevede e prevedeva da sempre essere cittadini, uno dei tanti cittadini che ascolta e che in qualche modo riesce a dare concretezza, competenza nelle proprie azioni. Oggi noi siamo qui, nelle aree interne. L'area interna è un'area che soffre di più rispetto all'area costiera. L'area interna deve essere in qualche modo rilanciata e questo è il programma, l'idea della lista civica, ragionare tutti insieme, ma ragionare tutti insieme per portare con credenza. oggi abbiamo una ferrovia che ci porta a Roma e a Pescara di oltre 100 anni fa. Abbiamo oggi il pericolo anche dell'autostrada, quindi che isolerebbe ancora di più con la chiusura dei ponti il nostro Abruzzo. E allora bisogna portare l'idea, bisogna confrontarsi, bisogna stare insieme, bisogna essere in grado di far avvicinare i cittadini a quella politica che è una politica del fare, una politica del sapere, ma una politica della condivisione. Oggi ci sono dei lavoratori qui ad Avezzaro che stanno scioperando. Io lo dico sempre, lo dico come fatto importante, l'ascolto, l'ascolto dei lavoratori va sempre fatto. I lavoratori vanno ascoltati. Oggi c'è il problema della Elefantri. C'è la prima, l'amico Tangredi che ci ricordava, ho visto prima l'amico Tangredi e lo so che c'è, col quale avevano condiviso delle azioni di lavoro e mi raccontava appunto il problema che sta nascendo oggi con la società Elefantri. Quindi dobbiamo essere pronti a fare questo passo in più, questa azione nei confronti della gente che ha bisogno veramente di essere ascoltata e di lavorare. Naturalmente vi rivolgo e vi faccio veramente un segno di vicinanza immensa a quei lavoratori che di notte vanno in giro da sempre che rappresentano il tessuto di tutta la nostra nazione su noi ambulanti. Grazie per quello di fare. Come dicevo quindi siamo partiti con queste idee e noi nel nostro territorio per poter avere delle idee buone poniamo dei temi. Il tema della cultura e del turismo che possono coniugarsi, dell'agricoltura, è facile fare impresa in questi campi, è facile fare delle produzioni a chilometro zero in una terra agricola di eccellenza. E queste sono le cose che noi mettiamo sul tappeto, sulla carta, mettiamo nel programma che intendiamo presentare, intendiamo presentarlo appunto con una persona che oggi ci ha onorato della sua presenza e qui, Fabrizio Di Stefano, che lo ringrazio perché è una persona che ha quelle qualità, le qualità della competenza, la conoscenza, l'esperienza, l'ascolto e le idee, perché lui è partito già da diverso tempo nel preparare un programma ed essere pronto per dire c'è un programma condiviso e soprattutto è condiviso con la gente, con i cittadini, perché noi civici rappresentiamo, voglio dirlo con forza, rappresentiamo la società civile, rappresentiamo il cittadino nella sua purezza, molte volte ci sentiamo uno di loro, uno dei tanti cittadini che in qualche modo in questo momento storico sta soffrendo e ha bisogno dei punti fermi, quei punti fermi possono essere dati solo a chi ha una sua competenza e una sua determinazione. quindi vi ringrazio ancora della presenza qui nella nostra città. Auspico che tutti insieme cominciamo a guardare al futuro, abbiamo una finalità, lasciamo perdere il passato, perché il passato ci porta indietro e non porta niente, il futuro è il futuro dei giovani, il futuro delle idee. Questa è la speranza, questo è il segnale che dobbiamo dare ai lavoratori che hanno bisogno di solidità, di tranquillità e di lavoro, ai giovani che hanno bisogno di rimanere nella nostra regione creando impresa, creando anche delle forme di cultura, di studio diverso che evitino chiaramente, come succede nella regione Abruzzo, che di 100 laureati 34 devono emigrare. Quindi facciamo veramente valere le nostre idee, le nostre idee sono sicuramente delle idee dei cittadini. Una persona che può oggi avere questa competenza, può raccogliere tutte queste nostre idee, questi nostri bisogni, oggi la teniamo qui perché ha quelle caratteristiche e ha quelle capacità. Quindi sicuramente potrebbe essere un ottimo presidente della regione Abruzzo. Grazie, grazie Gianni Viva Grazio. Io volevo invitare ad accomodarvi, io che vedo ancora persone in piedi, magari potete prendere posto. Inviterei sul palco un avvocato, proviene da Alba Adriano,